Ciao a tutti, sono Shogam01, questo è un nuovo video, canto Gli Rosa e Gli Papa, prima di iniziare, se volete, io volevo portare uno spacchettamento su Pokemon TCGO, quindi andate su Instagram, Shogam01, mi inviate le foto di questi codici che sono simili a questi, ok, iniziamo! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti